Amici ascoltatori bentornati, Lucia ci scrive Ho gli armadietti della cucina sempre più pieni, mi servirebbero delle padelle meno ingombranti Lucia, ma con Smart Click di Tescoma il problema è risolto Una linea completa di padelle, bistecchiere, crepiere, wok salva spazio a partire da 21,90€ Il manico si sgancia con un click, risparmi spazio in cucina e lavastoviglie quando le lavi Sono tutte antiaderenti a fondo spesso e puoi usarle anche in forno togliendo il manico Scopri tutta la linea Tescoma, la passione in cucina